Per quanto riguarda la Lombardia, il PNRR investe e gli altri piani legati alla regione e agli altri enti pubblici, arrivano circa 10 miliardi di euro. Per quanto riguarda il PNRR, in particolare a Milano, 220 milioni sono dedicati al cosiddetto PINQUA, cioè un programma per la qualità dell'abitare che completamente farà rinascere alcuni quartieri della città. Altre iniziative riguardano logicamente il sostegno delle aziende pubbliche e locali per quanto riguarda la transizione ecologica, una transizione che però per essere tale deve avvenire in tempi equilibrati e quindi per questa ragione non bisogna dimenticarsi nessuno, non bisogna essere e focalizzarsi solo su una tecnologia, penso all'elettrico, perché le nuove tecnologie di trasporto ci permettono di avere una serie di altre possibilità per appunto far andare pullman, treni e metropolitane. Detto questo dunque il percorso è un percorso di grande visione, le sfide che l'Europa ci impone sono sfide veramente importanti ma noi le dobbiamo assolutamente declinare in chiave italiana. Ricordiamo che le perdite per quanto riguarda il trasporto pubblico locale hanno colpito duramente soprattutto quelle aziende che funzionano e hanno funzionato negli ultimi decenni. ATM è una di queste e cioè le aziende che sono sopravvissute grazie a semplicemente a sovvenzioni da parte dello Stato poco cambiava e poco è cambiato durante il periodo del Covid e dell'emergenza sanitaria e poi economica. Per quanto riguarda ATM per esempio che ha un importante sostentamento dovuto alla bigliettazione evidentemente le chiusure hanno provocato dei grossi danni. Il governo su questo però è intervenuto, 700 milioni di euro sono stati dedicati al trasporto pubblico locale e alle sovvenzioni per le aziende di trasporto pubblico locale. Io ritengo però che per esempio ATM essendo diciamo un gioiello della città di Milano e non solo un gioiello della Lombardia debba rimanere pubblica, che il trasporto pubblico locale rimanga pubblico soprattutto nella nostra regione, una delle opportunità per esempio potrebbe essere veramente ipotizzare una unione tra Trenord e ATM. Ricordiamo che non più di qualche anno fa qualcuno ha tentato fortunatamente non riuscendoci di fare in modo che Ferrovie dello Stato acquisisse ATM. Era oramai un dato di fatto, un segreto di Pulcinella di cui tutti ci eravamo accorti. Questa è chiaramente, non è mia competenza ma da milanese mi sento di dire che qualunque sia la scelta che viene fatta per il futuro del trasporto pubblico locale, avere un gioiello come ATM che diciamo nel corso di oltre 100 anni è diventata una grande azienda pubblica e che è rimasta pubblica, insomma non devo aggiungere null'altro per convincere chi ci sta guardando per dire che appunto questa debba rimanere un'azienda pubblica.